Noi lo facciamo appunto per regalare un sogno, qualcosa di bello, inarrivabile, almeno in questo momento. È una cena del cuore, quella preparata e servita agli ospiti, ai collaboratori e volontari di Casa Tevenin dai ristoratori dei Tre Bicchieri, noto ristorante Aretino. L'intero staff del ristorante si è messo a disposizione per una sera per realizzare e servire una cena gourmet nel magnifico salone di Casa Tevenin. E io e mia moglie, essendo giovani genitori, avendo due bambine, poteva essere e può essere il regalo più bello, un qualcosa di diverso per questi bambini e per le mamme che sono presenti all'interno di Casa Tevenin. Così ho fatto di ritrovarsi insieme, trovarsi insieme anche ad altra gente, ad altre persone. Di solito si sente un po' come se fossero su due piani diversi, ma trovarsi sullo stesso piano, essere insieme, fare festa, credo che sia la cosa più bella, il regalo più bello che si possa dare a queste persone che sono qua dentro, sia piccoli che le mamme, che grandi. Un dono di Natale speciale, quello dei ristoratori e della direzione di Casa Tevenin, che per il futuro intendono sviluppare un successivo progetto di docenza e di laboratori pensati per i giovani ospiti dello storico istituto Aretino. Luigi infatti si è proposto, e qui veramente ha dimostrato la sua sensibilità, attenzione e generosità, perché si è proposto per portare avanti una collaborazione che vedrà gli ospiti partecipare dei laboratori di cucina. E questo è educativo, fa vita, fa da gioia. Quindi siamo ben lieti di poter continuare e iniziare stasera un'avventura che ci porterà lontano, spero. Qualche strumento per il futuro darà questa collaborazione a questi ragazzi e a questi giovani? Esatto, l'idea nostra, quella della casa, è quella di dare autonomia e il più possibile renderli capaci di poter vivere una vita normale fuori da Casa Tevenin. E Luigi ci darà gli strumenti base per poter entrare nel mondo e entrarci in maniera concreta, con le proprie gambe e con le proprie forze.